buongiorno seconda giornata della 125esima fiera cavalli verona siamo qui nel padiglione 12 seguendo i sogni di maria sole rana ciao buongiorno come va va bene quando siamo in mezzo ai cavalli va sempre bene per noi maria sole come è cominciata la tua passione per i cavalli la mia passione nasce da mio papà perché lui ancora 25 anni fa aveva un maneggio dietro lo stabilimento in cui aveva 3 4 box il suo campo e dopo lavoro lui montava e lui è sempre stato appassionato di cavalli andalusi io con gli anni sono partita con gli andalusi la prima volta avevo sei mesi che sono stati a cavallo in braccio a lui e dopo di che con gli anni mi sono un po diretta verso il salto ostacoli cavalli tedeschi perché la disciplina che più e mi chiamava e adesso mi ritrovo qua quasi vent'anni dopo e appassionatissima ai cavalli sono la mia vita per questo è il tuo sogno e lui si chiama giusto giusto follow your dream esatto lui si chiama follow your dreams e per gli amici dumbo e quindi come mai allora lui si chiama dumbo perché quando è arrivato era un po più piccolino e aveva delle orecchie un po sproporzionate rispetto al resto del corpo e quindi è stato soprannominato dumbo e però si ecco lui è un cavallo che è arrivato che non riuscivano più a domarlo e avevano avuto delle gravi difficoltà e adesso è un cavallo con cui facciamo lezioni demo giorgio lo sta portando in gara e sta avendo ottimi risultati quindi è una dimostrazione del parelli e quello che noi facciamo con con questi cavalli che otteniamo ottimi risultati che cosa ti ha spinto ad avvicinarti al metodo parelli e soprattutto qual è la cosa che ti piace di più la marcia in più che ha questo questa metodologia questo modo di avvicinarsi ai nostri amici cavalli allora il parelli è un metodo naturale che promuove la comunicazione tra il cavallo e il cavaliere solo perché i cavalli non parlano come parliamo noi non vuol dire che non dialogano dialogano tra di loro e possono anche dialogare con noi attraverso il linguaggio del corpo attraverso le loro espressioni e il parelli è fa proprio questo analizza le loro espressioni il loro linguaggio del corpo e riesce a trovare un modo di tradurre le nostre espressioni in un linguaggio capibile da loro e questa cosa che mi ha colpito io ho conosciuto il parelli quando avevo 11 12 anni e avevo una cavalla molto calda molto giovane io ero molto giovane e quindi avevo un po di difficoltà nel rapporto non riusciamo a capirci molto bene e quindi ho conosciuto il metodo parelli e mi sono innamorato assolutamente dei risultati che ho ottenuto in giro di una settimana due e dopo di che ho avuto l'opportunità di andare in america per due volte a studiare compatte linda parelli che sono i fondatori del metodo e da lì proprio mi si è aperto un mondo ho scoperto di fare cose coi cavalli che non mi sarei mai immaginata nella vita di riuscire a fare secondo te sarebbe una bella cosa che nelle scuole di equitazione di tutte le discipline di tutti i generi con tutti i tipi di selle prima di mettere i bambini in sella in un tipo di etologia di horsemanship assolutamente sì il parelli è universale va bene per grandi piccoli persone che hanno aspirazioni a fare agonismo andare a vincere la coppa del mondo e persone che vogliono fare la passeggiata la domenica in serenità è veramente applicabile a tutto e ti dà la possibilità di instaurare un rapporto con il tuo cavallo che va ben oltre il salgo faccio lezione scendo e vado via e quindi secondo me è una cosa molto importante noi ai nostri allievi che vengono in scuderia da noi gli facciamo una base parelli prima ancora di salire facciamo una base da terra in cui gli insegniamo a muoversi a dialogare con il cavallo in maniera corretta e questo gli dà la possibilità poi andando avanti di avere molta più connessione con il loro cavallo allora continua a seguire i tuoi sogni maria sole grazie grazie mille grazie 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 grazie